Seguendo il dibattito sinodale all'interno della Santa Sede, ho pensato ai miei anni. Io sono un prete da 30 anni e penso a tante attività fatte con i ragazzi, che alla fine sono la vita di un prete, in specie di un giovane prete. E fai un esame di coscienza, non tanto perché sia mai caduto in una forma di abuso del genere, però fai un esame di coscienza sulla tua mediocrità, che a volte è quel brodo di cultura che fa poi nascere, se non gli abusi, comunque la leggerezza nel ministero, nelle relazioni, nella vita di un prete. Per me è stata una grazia a livello personale seguire appunto queste giornate. Per la Chiesa italiana, per la Chiesa italiana è una scossa a prendersi sul serio proprio quello che il Magistero di Benedetto XVI, quindi di Papa Francesco, il grido delle vittime e anche la pressione dei media in questi anni ci hanno portato a maturare. Grazie.